Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora giornate difficili in A1 con l'esodo in corso per raggiungere località di vacanza. Questa mattina un incidente lungo la corsia sud che ha coinvolto un mezzo pesante che per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbandare creando non poche difficoltà al traffico veicolare. Poco dopo l'accaduto tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino si sono infatti creati oltre 5 km di coda e per domani è previsto il bollino nero per consentire la fluidità del traffico. ANAS ha così potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri. Entra in azione anche il piano operativo maxi emergenze dell'ASL Toscana Sud-Est. Con l'esodo estivo entra in azione il piano maxi emergenze dell'ASL Toscana Sud-Est in particolare nei tratti aretini delle principali arterie interessate dal traffico dei vacanzieri. Nelle giornate da bollino rosso e bollino nero di fatto i prossimi due weekend nei tratti aretini della A1, della E45 e della Perugia Bettolle verranno dislocate ambulanze e supporto 118 in caso di incidente per facilitare i soccorsi e proteggere le persone intrappolate nelle code. Risposta in minor tempo che viene garantita avvicinando questi mezzi ai caselli autostradali anche in caso di microtamponamenti che spesso si verificano a causa dell'incidente principale. Oltre che a garantire un soccorso in tempi rapidi garantisce anche una risoluzione dell'evento incidentale in un minor tempo quindi fa in modo che le code non incrementino ulteriormente quindi a facilitare anche il defluire dei mezzi bloccati. E dal 118 preziosi consigli per chi deve affrontare un lungo viaggio con alte temperature. Di portare sempre con sé in macchina quando affrontiamo dei viaggi l'acqua. L'acqua non importa che sia calda, che sia a temperatura ambiente, non importa ma rintegrare i liquidi che perdiamo è una cosa importantissima e fondamentale. Non bere, non fare uso di sostanze alcoliche perché questi oltre che a diminuire i tempi di reazione e la lucidità già compromessa per le alte temperature aumentano anche la sudorazione stessa. E quando possibile, in caso di coda, quando possibile fermarsi nelle aree di sosta anche per pochi minuti o nelle aree di servizio per appunto staccare un attimo la spina, rigenerarsi e per poi ripartire più freschi e più concentrati per il proseguo del tragitto. Ancora un'aggressione su un treno a retino a farne le spese adesso è stata una capotreno, un episodio che riaccende così i riflettori sul tema sicurezza. È stata aggredita da un passeggero mentre il convoglio era fermo alla stazione di Bibiena, vittima del brutale episodio una capotreno dipendente di TFT che si era avvicinata per procedere con il controllo dei biglietti di viaggio. È successo questa mattina, l'aggressore dopo aver protestato per essere stato scoperto a bordo senza avere con sé il ticket, ha smintonato la donna causandola una distorsione alla spalla e al braccio destro. Sul posto forza dell'ordine e sanitari, accompagnata in pronto soccorso, la donna ha ricevuto una prognosi di 20 giorni mentre l'uomo è stato denunciato. L'aggressione subita da una nostra dipendente è un fatto grave che desta grande preoccupazione, ha commentato Maurizio Seri, amministratore unico di TFT. Purtroppo, quello di oggi però è solo l'ultimo di una serie di episodi. Nelle scorse settimane, in seguito alle preoccupazioni espresse dai sindacati, avevamo scritto una lettera indirizzata al prefetto e per conoscenza ai sindaci, dei comuni soci e alle forze dell'ordine per segnalare l'evoluzione negativa della sicurezza a bordo dei treni TFT operanti nelle linee LFI e in alcune stazioni e fermate. In particolare, sono stati evidenziati fenomeni sommersi di spaccio e assunzione di droghe con frequenti risse e atteggiamenti intimidatori a bordo. Dopo il fatto di oggi, conclude Seri, è quanto più urgente per tutelare i lavoratori e i viaggiatori il coinvolgimento e l'intervento dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Altrettanto importante ed auspicabile è un maggior monitoraggio a bordo dei treni. Oltre un anno fa, TFT e LFI hanno attivato un servizio di vigilanza privato sui treni molto apprezzato dai dipendenti ed utenti, ma purtroppo da solo non può bastare. La funzione pubblica della CGL ha scritto una lettera ai vertici dell'Asla Toscana Sud-Est. L'argomento sono le condizioni di lavoro, il rapporto alla microclima dei locali negli uffici. Il sindacato però fa sapere di essere ancora in attesa di risposta. Il problema, scrivono, lo abbiamo sollecitato da tempo, ben prima del caldo di questi giorni, ma l'azienda non ha fatto nulla, ricorda Gabriella Petteruti, responsabile sanità della funzione pubblica. Ad esempio nel distretto Valtiberina non c'è climatizzazione, non sono stati forniti apparecchi portatili neanche per gli ambulatori in cui arriva l'utenza. Le temperature anche oggi hanno raggiunto in alcune stanze i 34 gradi centigradi. In attesa di interventi risolutivi si chiede di mettere immediatamente in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori delle sedi aziendali prive di climatizzazione. La conclusione del sindacato è chiara, se non si abbasserà la temperatura negli uffici, quella sindacale diventerà bollente. E parliamo ancora di sanità, i pronto soccorso non sono in sofferenza in questo momento per quanto riguarda gli accessi, ma c'è un aumento di anziani che arrivano disidratati. Sentiamo i consigli. Recentemente potenziato, con otto posti letto in più, non sta registrando particolari picchi di accesso. Il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, anche in questi giorni di grande calura estiva. Sono però in aumento i casi di anziani disidratati. La situazione degli accessi non è cambiata rispetto a precedentemente. Gli accessi sono comunque sempre tanti. È cambiata casomai un po' la tipologia dei malati. Abbiamo molti anziani che purtroppo con questo caldo non bevano, come sappiamo. Spesso e volentieri sono pazienti che fanno i diuretici. La tipologia degli accessi è dovuta più che altro ad anziani e persone fragili che spesso e volentieri arrivano con dei quadri di disidratazione che noi nel 90% risolviamo, però abbiamo sempre bisogno di 24-48 ore per idratarli. Una situazione più o meno analoga in tutti i pronto soccorso del territorio aretino. Sì, la situazione non è molto diversa in tutti i pronto soccorsi. In più, noi abbiamo pronto soccorsi esposti al flusso turistico e anche lì abbiamo pressioni importanti. Ma il personale ha grandi capacità, ha grande professionalità, quindi la preoccupazione c'è, ma sono sicuro che il sistema della sud-est reggerà tranquillamente con la sua tradizionale forza quest'onda. Conferito l'incarico di direttore unità operativa semplice dipartimentale di nefrologia e dialisi dell'ospedale del Valdarno alla dottor Ugo Pezzotti. Si tratta di un incarico all'insegna della continuità, visto che il dottor Pezzotti, la cui nomina sarà operativa a partire dal 16 agosto e dalla 2008 in forza alla nefrologia e dialisi dell'ospedale della Groccia di Montevarchi. E torna una nuova allerta meteo di Codice Giallo per rischio di forti temporali che è stata diffusa dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale per la giornata di domani dalle 11 alle 18. Un'allerta che interesserà tutte le province della Toscana con la sola esclusione delle zone costiere. A partire dalla tarda mattinata, primo pomeriggio, sono attesi i temporali sparsi che partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose, possibili anche colpi di vento e grandinate. E adesso parliamo di scuola e ci spostiamo in Acchiazentino. Sono infatti in preparazione i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'ISIS Fermi di Bibbiena con un investimento di oltre 8 milioni e mezzo di euro. Sono così iniziati i traslochi dei vari comparti che porteranno su Poppi nella scuola di proprietà della provincia e su una parte del complesso extra-ragioneria 12 chilassi del Fermi per un totale di 202 studenti su 550 totali. Tra 150 resteranno invece a Bibbiena nella parte di scuola che non sarà interessata dai lavori che saranno organizzati in due cantieri che partiranno in contemporanea tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Adesso ci spostiamo invece a Castiglion-Fiorentino, un segretario unico per tre comuni. Questo quanto è stato deciso durante l'ultimo consiglio comunale nel quale è stata approvata la Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Castiglion-Fiorentino, Capolone e Monte San Savino con la dottoressa Cinzia Macchiarelli. Per Castiglion-Fiorentino non è la prima volta che si opta per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale. E adesso siamo a Castiglion-Fiorentino. Dopo una 2023 da record, i dati provvisori della primo semestre 2024 raccolti in base all'imposta di soggiorno segnano un ulteriore primato in tema turismo. Mai nella storia infatti era stato registrato un dato simile in crescita rispetto alla 2023 si è agli arrivi più 5% che le presenze che segnano invece addirittura più 11%. E sempre in Valdichiana, ma Monte San Savino sta per concludersi il Monte San Savino Festival con un concerto nei giorni pensili. Dal pianoforte al violino, al violoncello, fino al lobo e la lirica, gli strumenti affiato, è arrivato a conclusione il Monte San Savino Festival. Oltre 150 i ragazzi che sono arrivati nella cittadina della Valdichiana per perfezionarsi. Il concerto conclusivo sabato 3 agosto alle 21.15 ad ingresso gratuito nel teatro all'aperto dei Giardini Pensili Trumpet Harmonies, 18 trombe per un viaggio musicale dalla classica fino a Egno Morricone, Nino Rota, Astor Piazzolla e I Queen. Direzione artistica del maestro Andrea Lucchi, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia Santa Cecilia. Sono qua con 12 ragazzi molto bravi che desiderosi di apprendere diciamo quest'arte, di suonare la tromba, con i quali poi a fine diciamo percorso di questa settimana faremo un concerto in una location bellissima all'aperto, dove eseguiremo arrangiamenti per gruppo grande di trombe che ha detto così uno magari immagina che sia una cosa un po' bandistica in realtà ed è di tutt'altro livello, molto raffinato e si suoneranno musiche di generi più vari praticamente. Suoneremo musiche di Rota, di Morricone, di Piazzolla, suoneremo qualcosa di Queen anche quindi sarà una serata bella, ricca di emozioni e soprattutto alla portata di tutti perché non è la musica classica magari che uno non è abituato a sentire, sono musiche orecchiabili, conosciute, quindi sono felice di prendere parte a questo bellissimo concerto. Arezzo è pronta invece a celebrare il Santo Patrono San Donato in programma, eventi religiosi, iniziative collaterali come la consueta offerta della Cero e i fuochi d'artificio. La città di Arezzo è pronta a rendere omaggio al suo Santo Patrono San Donato mercoledì 7 agosto con rituali religiosi ed eventi tradizionali che si susseguiranno. Come la tradizione però le celebrazioni partiranno sin dalla vigilia a martedì 6 agosto con la cerimonia di offerta del Cero in cattedrale dalle 21 e 15 presenti le rappresentative dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, l'Associazione Signarezzi, il gruppo musici della Giostra del Saracino, la magistratura, il sindaco e i gruppi storici della provincia. Durante la cerimonia sarà offerto a San Donato il Cero Votivo decorato come di consueto dall'artista senese Rita Rosselliciani, decoratrice anche dei cedi che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l'anno giostresco. Tante poi le iniziative collaterali organizzate in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour come l'apertura straordinaria del percorso espositivo I colori della Giostra e la visita guidata gratuita alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale Infine il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città a partire dalle 23 Gli eventi religiosi proseguiranno poi anche nella giornata di mercoledì 7 agosto Adesso lo sport aveva preso posizione nelle ore scorse sul caso tanto discusso dell'incontro alle Olimpiadi di boxa femminili la boxa nicchie siamo andati ad incontrarli se vediamo la cosa per diciamo fino in fondo fondamentalmente stiamo togliendo dei diritti anche alla pugile algerina a cui stiamo puntando il dito ma lei fondamentalmente non ha niente che vada contro diciamo le regole che ha imposto il CIO e tutta la regola sanitaria sono vicino alla nostra amatissima federazione sono vicino a tutti i nostri atleti Aldo Nicchiaretino ex pugile attuale componente della federazione pugilistica italiana e titolare assieme al fratello Adriano della storica società box nicchi fondata dal babbo santi ci mette la faccia e commenta con noi quello che è diventato secondo molti più un caso mediatico che altro parliamo dell'incontro alle Olimpiadi di Parigi tra l'Algerina e Manichelif l'italiana Angela Carini pochi secondi sul ring nella categoria 66 kg Welter poi l'atleta azzurra ha annunciato la decisione di ritirarsi contro la rivale iperandrogina al momento posso solo che essere solidale con la nostra grandissima Angela Carini che io stimo e adoro anche per la storia che si porta alle spalle come in tutti gli altri sport sono comunque degli eventi in cui si gareggia non c'è una seconda chance si deve dare tutto e tante sono le dinamiche che dobbiamo tenere in considerazione non è semplicemente il fatto che non si è allenato non posso credere che un atleta vada le Olimpiadi non allenato perché noi abbiamo degli ottimi CT abbiamo un'ottima nazionale i ragazzi erano preparatissimi però le dinamiche quando si dice sempre quando si sale questi tre gradini sono tantissime le dinamiche che dobbiamo andare ad affrontare la vicenda ha riacceso il dibattito sul grado di inclusività nelle competizioni agonistiche di alto livello forse perché l'atleta era già finita sotto i riflettori mediatici ai mondiali 2023 quando venne squalificata perché secondo l'International Boxing Association ente sportivo non riconosciuto dal Comitato Olimpico internazionale i test condotti sulla pugile algerina avrebbero evidenziato un livello eccessivo di testosterone e la presenza di cromosomi maschili nel DNA una vicenda insomma che secondo molti non ha proprio nulla a che fare con i diritti negati del mondo LGBT è stata la stessa Angela Carini nelle scorse ore a giustificare con una sola ragione quella sportiva il suo ritiro sport inclusione le olimpiadi ce lo hanno insegnato perché non so se molti sanno ma le olimpiadi le olimpiadi le vecchie olimpiadi quindi le olimpiadi antiche che partono dal 996 a.C. naturalmente includevano tutti ma soprattutto si fermavano le guerre quindi questo è un segno positivo i cinque cerchi significa inclusione quindi io penso che sia un segno bellissimo il fatto dell'inclusione ma questo non deve togliere assolutamente il rispetto e soprattutto la tutela ai nostri atleti ecco alle sue spalle un ring vuoto siamo in agosto da settembre riprenderà a pieno l'attività della box nicchi voi avete tanti ragazzi ma anche tante ragazze abbiamo lavorato tanto in questi 30 anni oggi abbiamo l'orgoglio di dire che abbiamo ben 27 se non erro bambini tra i 5 e i 13 anni poi abbiamo 23 pugili IBA quindi sono i pugili quelli dilettanti e poi abbiamo anche da quest'anno abbiamo intrapreso la nuova disciplina della gym box che erano anni che noi non ci affacciavamo a questa disciplina e abbiamo più di 60 diciamo agonisti che portano in altri colori della nostra società ma soprattutto della nostra società di questo ne andiamo fieri ed orgogliosi Laura Benante dell'Accademia Karate Casentino è tra le migliori atlete italiane selezionate per combattere i CTR Games Karate la manifestazione in programma sabato 7 settembre a Brescia proporrà un quadrangolare tra la nazionale e le rappresentative di nord, centro e sud Italia motivato dalla volontà di proporre un confronto di alto livello tra i più talentuosi giovani della penisola in vista delle prossime gare internazionali in questo contesto di eccezione è rientrata anche la Benante che è riuscita ad emergere dalle selezioni andate in scena al centro sportivo della Polizia di Stato di Roma questa per stasera l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci